Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Durante il matrimonio di Alessandro Vespa e Isabella in Puglia, più di 200 ospiti provenienti dal mondo della politica e della tv hanno reso l'evento davvero speciale. Tra i presenti, Maria Elena Boschi, Pierferdinando Casini, Angelino Alfano e Simonetta Matone hanno catturato l'attenzione, così come Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina. Dopo la cerimonia religiosa, i festeggiamenti si sono spostati nella suggestiva tenuta di famiglia Lireni, immersa nelle campagne di Manduria. Un sabato pomeriggio insolito per oria, gli ospiti sono rimasti affascinati dal centro storico del borgo federiciano, mentre i residenti locali si sono avvicinati al palazzo diocesano per salutare e scattare qualche foto con gli ospiti d'onore della giornata. Come riportato da Antenna Sud, l'attenzione è stata sempre rispettosa e mai invadente, anche grazie al servizio di sicurezza dedicato. Per garantire ordine e comodità, gli sposi hanno organizzato un servizio di trasporto per gli invitati, particolarmente utile per muoversi tra le strette vie del suggestivo centro storico di Oria e per evitare una faticosa salita, soprattutto considerando il caldo tipico della Puglia nel mese di Puglia.